E allora continuiamo questa parte testa di oggi con l'artistico, il patinaggio artistico è rappresentato qui o stessi dall'artesto Bacchetti. E' una capacità nata proprio con l'artista di questo per il patinaggio artistico. In otto anni di attività ha partecipato a olimpie, mondiali, F2, mondialenismo, bravo lì, attività di matrimoniali, 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 attività di matrimoniali. Grazie a tutti i nostri amici, i nostri amici. Grazie. 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 Grazie.